eccoci qui sono tornate e io piano piano mi faccio l'immensità di questo posto oddio questo mostro ma sono io non è facile per me camminare più oddio andare dritta senza la mia what you non abbiamo potuto portarla perché c'è la moris come macchina e ci siamo state poche eravamo cane e due persone dietro e due davanti quindi ecco qui è bellissimo bellissimo praticamente siamo poco fuori da ingleton giro ci voglio venire per le cascate con mia figlia farò un piccolo blog perché quando c'è lei non faccio un blog perché voglio stare con lei se solo facciamo vedere perché ho compromesso piano geni mi hanno detto che vado troppo veloce vi sono resti di cave dall'altra parte ci sono più sant'antonio sono già stanca giù c'è un piccolo boschetto e insomma c'è gente ecco qui non sono da giù non le riprendo perché non voglio riprendere nessuno quelle solo a chi con chi mi fido mia figlia gli altri bene per adesso è tutto dopo andiamo a ingleton al villaggetto e farò qualche altro piccolo scatto ciao ragazzi buona giornata